salve a tutti i ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi ce ne andiamo al lago di fiastra se non sbaglio dovrebbe chiamarsi così adesso stiamo andando al punto di ritrovo per l'appuntamento dove si farà colazione benzina e poi si parte quindi ci vediamo tra poco al punto di ritrovo eccoci che siamo arrivati è buongiorno eh no ma infatti avevo letto avevo letto che hai scritto che c'era in Ipola tu forse buongiorno buongiorno grande sirvanone che hai fatto a copro il grande Ipan buongiorno bello che dici come no scritto perché tutte droghi ma quanti siamo oggi siamo una sbracata siamo ce l'avevamo le moto con l'azione l'avevamo fatta e tra un po' se parte i moscerini spiaccicati oggi siamo veramente veramente tanti ragazzi eh un gruppo sta laggiù in avanti e un altro gruppetto sta qua siamo un po' in ritardo sulla rappella di marcia visto che dovevamo partire cioè l'appuntamento era le 9 e mezza invece sono le 10 e 20 quindi quasi un'ora di ritardo ma questa è la prassi praticamente che l'appuntamento è le 9 e mezza magari poi ci stanno sempre quelli che arrivano un po' più tardi fai benzina, do colazione e tutto a fine si parte sempre un po' più tardi e qua c'è sta zona 2 velox quindi bisogna andare piano 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 pianino sta strada è figa peccato sia 2 velox questa non l'ho fatta mai è la prima volta che la faccio ma che è una giostra a questo ragazzi è le montagne russe queste queste sono le montagne russe ragazzi siccome sta strada fa un po' schifo cioè nel senso non è che fa schifo la strada fa schifo per terra che c'è sta terra, sassi, chiaia non mi vado a ammazzarmi eh vado molto tranquillo e via guardate che panorama ragazzi guardate che roba ma che spettacolo qui siamo a Narni se non sbaglio che robetta raga ma guardate che roba che spettacolo guardate che vista bello bello che stradina ragazzi mamma mia che robetta oggi oggi è puro divertimento proprio beh guarda le curve zio guarda quante ho le curve oggi madonna eccole qua le cascate delle marmore se vede la nube questa ha vinto vai che parte si dai che parte non volare non volare guardate che robetta si sente proprio il fresco che viene guardate che spettacolo arriva pure l'acqua bello mamma mia senti che freschetto come scalpita il monster attenzione il testa stretta adesso velocità di crociera tranquilla oggi siamo del team non fotti col Ducati ragazzi purtroppo mi è caduta la moto parca puttana c'eravamo fermati e niente ho messo il cavalletto se vede che si è ritirato su quando sono andato a appoggiare giù la moto ormai era troppo inclinata e l'ho appoggiata a terra per fortuna non si è fatta niente è giusto la leva del cambio che si è leggermente piegata ma vabbè quella sti cazzi si cambia però per il resto non si è fatta assolutamente niente per fortuna mi ce l'ho del culo però tutto sommato alla fine è andata bene dai poteva andare peggio eccolo qua siamo arrivati gli ultimi superstiti pausa pranzo vediamo se si servono che se è questo facci vedere si servono mi piace voto 10 buona vuoi dire è abbastanza calda poi una pausa pranzino veloce veloce panino con il maialino oliva scolane biretta e cipola siamo arrivati al lago di fiastra abbiamo appena parcheggiato le moto e ora ho mai visto l'idostatica i pesci che c'è stavano porco era pieno porco due c'è stanno sì i pesci poi pieno 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 ma se vedevano dalla strada pura riproduzione questo è il posto preferito mio all'ombra come te la trovi teppi non li mezzepra guarda che posti c'è no? io mi metti per questo non mi metti così quanto mi metti che ti ammollo sta fresco no no voi siete abituati io sono un po' schifato ma guarda che ma Silvano da Silvano siamo schifati pure noi che c'è oh 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 Silvano for president Michele è stato fuori erite oh un'occhio di birra io sto a dormire e non mi sento bravo sto a dormire è bella bella ridi pure guarda non mi guarda non mi sento mi vieneva il giorno questa ragazza non ho capito è la prima cosa bella che c'ha non è bello è bello non è bello è bello è bello io ti lo potrei anche dare c'è c'è abbiamo appena fatto la foto di Rito sia per Instagram che per la copertina c'è stato un punto di osservazione molto bello ho approfittato per fare la foto e alla fine l'ho fatto io poi hanno cominciato a fare tutti e niente adesso siamo in direzione casa quindi ritorniamo verso casa veramente un bel posto comunque ragazzi eh veramente veramente figo sia le strade che il posto proprio è bello Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like, attivare la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao!